Nuovo video What I Eat In A Day Cosa mangio in una giornata con delle idee veramente buone e sfiziose cucinate a casa e ovviamente sane e iniziamo subito dalla mattina io mi sveglio alle 5 e mezza non sempre non faccio Miracle Morning mi sveglio alle 5 e mezza per praticità per poter fare più robe la prima cosa che faccio o meglio che fa mio marito è quella di preparare il caffè con la moca così non disturbiamo i bimbi che dormono quindi primo caffè della giornata e ci mettiamo in studio a lavorare e qui c'è Giulino che salutiamo perché se ci seguite su Instagram sapete che non c'è più e quindi non me la sono sentita di togliere questo pezzettino perché era routine mattutina che lui venisse vicino alla mia poltrona e a chiedere un po' di coccole e a voler salire sulla scrivania soprattutto in questi ultimi giorni che abbiamo passato tanto bene insieme e gli ultimi giorni di questi 19 anni che abbiamo passato splendidamente insieme quindi ciao Giulino amore della mamma torniamo a noi torniamo a noi dopo un'oretta e mezza di lavoro vado al mio corso di crossfit della mattina io adoro crossfit e sto cercando piano piano di riprendere il ritmo perché ho avuto una lesione ho una lesione al ginocchio alla caviglia e un po' di problematiche in questi ultimi anni quindi piano piano sto riprendendo con questo 2024 che voglio riprendere cazzuta e crossfit è un allenamento funzionale fighissimo che adoro e io faccio il corso delle 6.45 poi torno a casa altro giro di caffè e poi entriamo nel vivo del What I Eat In A Day perché verso le 11 inizio a mettere su il pranzo soprattutto se cucino per tutta la famiglia e voglio fare una vellutata molto ricca veramente sabrosa e con un pizzico di carne quindi il mio segreto per fare la vellutata è quella di tagliare un sacco di verdura metterci sempre la zucca in questo caso abbiamo una bella butternut e metto tutto in forno in modo che io possa infornare tutto e poi andare in ufficio e continuare a lavorare avevo proprio voglia di fare qualcosa di caldo e quindi una vellutata anche per i bimbi per tutta la family è veramente un pasto super buono proprio che ti conforta l'anima e questo è il mio metodo per farla quindi vado a mettere sempre una zucca poi metto una patata dolce solo in questo caso in verità solo perché ce l'avevo in frigo lì da sola che ballava e così dava un pochino di dolcezza e vado a condire tutto solamente con del sale e un pizzico di olio quindi in questo caso abbiamo la zucca una patata dolce tre cipolle delle zucchine normali e delle carote questo è anche il mio metodo per far mangiare più verdura ai bimbi perché così vedono tutto aranciato sembrano carote e me le mangiano perché se no le zucchine non me le mangerebbero mai e neanche le cipolle ovviamente invece la mamma è una cipollona metterebbe cipolle ovunque come potete vedere e qui arriviamo alla preparazione della carne voglio fare uno spezzatino per accompagnare la vellutata perché la vellutata è ricca di minerali vitamine carboidrati ma ci manca la fonte proteica quindi ho deciso di fare uno spezzatino di manzo e vado a mettere delle cipolle delle carote dei ciliegini a soffriggere in maniera così blanda metto tre cipolle vado di abbondanza e intanto che iniziano ad appassire vado a sistemare la carne quindi a pulirla e a togliere un po' di pellicine di grassottello e tutto il residuo che tolgo infatti vedete che qua i signorini sono contenti perché poi tutto quello che io elimino e elimino molto lo vado a cuocere per loro quindi vado a mettere tutto aggiungo un po' di acqua e faccio andare io inizio a preparare il pranzo veramente prestissimo perché noi di solito facciamo comunque digiuno intermittente un 16 ore come minimo quindi inizio a prepararlo prestissimo proprio per far cuocere lentamente e qui vedete che qua aspettano i residui e gli scarti di carne amore c'è anche Junior che strano che mi fa qui vedete il nostro spezzatino che sta iniziando a prendere corpo che profumino che profumino voi dovete sentire questo profumino dopo averlo fatto andare un po' a fuoco medio abbasso il fuoco a 4 e lo lascio andare nel frattempo le nostre verdure si sono cotte ci mettono circa una mezz'oretta e vado a fare il travaso quindi vado a mettere tutte le mie verdure in un bel tegame bello grosso io vedete che ho fatto una grande quantità di vellutata che ci andrà a durare veramente per due giorni ma per tutta la famiglia anche più giorni se siete due persone o una persona singola quindi io quando inizio a cucinare cucino sempre in grandi quantità sia per risparmiare tempo ma anche denaro perché comunque fai andare il forno lo fai andare una volta non per due carote e mezza zucchina quindi trasferisco tutta la mia verdura in un bel pentolone e aggiungo un pochino di acqua un po' a piacere in base a quanto volete intensa e spessa la vostra vellutata a me non piace troppo troppo liquida quindi la schiaccio prima con uno schiacciapatate per fare il grosso e poi vado di mini peamer come avete visto io non tolgo la buccia alla zucca perché è edibile a me piace un sacco e di solito anche quando non la faccio invellutata me la mangio proprio così perché diventa buona croccante ed è ricca di fibre quindi io non la butto mai e quando il pranzo è quasi pronto andiamo a rompere il digiuno e in questo periodo mi piace tantissimo romperlo con un bel cappuccino proteico quindi utilizziamo proprio un latte proteico che ha dei valori un pochino più proteici rispetto al solito quindi ha il doppio di solito ne ha 3 grammi per cento questo ne ha 6-7 grammi per cento ma soprattutto questo è il cappuccino più buono della vita perché io sono un po' una rompiscatole nel cappuccio e Ale me lo prepara come Dio comanda quindi un cappuccino bello schiomoso ma soprattutto caldo caldo che deve essere ustionante il cappuccino e questo è rituale di questo periodo in una bella tazza tra l'altro e questo è veramente un cappuccino straordinario il migliore il migliore questo è il miglior cappuccino della vita avete sentito ecco quindi rompo il digiuno con un bel cappuccino caldo proteico senza lattosio perché sono intollerante se no mi gonfio come una zampogna e subito dopo inizia il pranzo faccio un bel piattone di vellutata e sopra con questo spezzatino che completa il tutto io cioè io sono veramente io adoro questo piatto perché anche qui in Canaria in Gran Canaria dove viviamo fa freschino in questo in questo periodo e ci metto il pepe che non ho messo in fase di di cucina perché comunque lo mangiano anche i bimbi quindi il pepe lo metto alla fine ed ecco qua il primo passo della giornata che in verità sarà primo pomeriggio saranno le tre le quattro del pomeriggio perché me ne rendo conto perché c'è se basti anche tornato da scuola con i suoi popcorn e quindi finalmente si magna questo bel piattone proprio che va a riscaldare l'anima e a confortare anche la mia fame è veramente buona provate a fare questa vellutata ma sopra con un po' di carne è talmente buona che ho fatto un piccolo bis un piccolo bis e poi prendo la mia integrazione non prendo tanta roba prendo una vitamina C ma la spezzo a metà perché di recente ho scoperto che è migliore migliore all'assorbimento perché se no un grammo è troppo e non lo assorbiamo prendo il collagene che è marino che è una proteina essenziale sia per le strutture tendine articolazioni e tutto e anche a livello estetico per la tonicità della pelle e poi prendo anche il magnesio bisglicinato che è una forma maggiormente biodisponibile di magnesio ce ne sono tantissime il bisglicinato il treitonato di magnesio e anche un'altra il malato di magnesio sono tra le mie preferite e anche le migliori per biodisponibilità e arriviamo al secondo cappuccino della giornata anziché farmi magari uno shaker proteico in questo periodo che fa un po' freschino in Gran Canaria preferisco un bel cappuccino perché vedete che è un cappuccino vedete normale però ha comunque le sue 15 grammi di proteine insomma va bene non è buttato lì per caso e eravamo andati fuori a fare un giro per un centro commerciale e abbiamo fatto tardi quindi mi sono presa delle noci di macadamia che sono veramente una delle delle mie noci favorite della vita perché oltre ad essere burrose buonissime hanno dei valori nutrizionali eccezionali però bisogna metterle subito via perché sennò me le mangio tutte e quindi non va bene perché sono sono ottime come valori nutrizionali ma sono sono super caloriche insomma quindi metto via subito bevo acqua e cerco di bere almeno un 3 barra 4 litri di acqua quando mi alleno soprattutto e cerco di farlo non riesco sempre ma cerco di farlo arriviamo a sera in verità sono ancora piena dal pranzo dal pranzone che mi sono fatta però volevo farvi vedere questa ricettina che ho sperimentato nell'ultimo periodo e che è super figa ed è veramente veloce e pratica e gustosa da fare in frigitrice ad aria o se no se non ce l'avete in forno ventilato serve solamente uno stampo prendiamo poi una piadina integrale quello che avete io utilizzo un tacos di mais metto il formaggio metto il pomodoro metto un hamburger e vado così ad alternare e poi ci metto anche il parmigiano andate voi a sensazione a creatività liberate la creatività e poi sigillo il tutto con un'altra fetta di emmental utilizzo l'emmental perché è quello che ha meno lattosio quasi zero ficco in frigitrice ad aria a 200 gradi per 17 18 minuti e voilà guardate che robetta sembra un panino sporchissimo tipo junk food puro e invece no e invece è sano è sano è cibo vero sano che è buono come aver mangiato un panino però è veramente buono io ve lo consiglio soprattutto quando vi viene buono scrivizzo ma c'ho voglia di hamburger sporchissimo fatevi sta roba che è buonissima questo invece in verità è un riciclo di uno scarto ieri giorno prima avevo fatto delle carote e non erano venute particolarmente bene però siccome c'è una cosa che in casa nostra non succede mai che è buttare via il cibo lo riscaldate ce le siamo rimangiate metto le olive e anche quelle ci piacciono un sacco ho ottima fonte di grassi ed ecco questa è la nostra cena in verità ci dividiamo il nostro prelibato panino barra barrabò che abbiamo fatto in frigitrice ad aria io devo fare dei corsi di bonton però vabbè sovervogliamo lo divido con Ale perché insieme comunque abbiamo pranzato tardi ed eravamo abbastanza pieni e non ci avevamo tanta voglia soprattutto eravamo stanchi perché era molto molto tardi lì vedete poldo che gli do un po' di assaggino finisco la mia carne e chiedo un po' di carne ad Ale perché comunque poldo ha fame e a casa nostra i gatti regnano quindi non abbiate schifo dei gatti sul tavolo perché li vedrete spesso perché è nostra abitudine che comunque salgano e Ale non è molto d'accordo lo caccia via finita la cena arriva la seconda tornata di integrazione prendo un'altra mezza pasticca di vitamina C la divido con Ale poi prendo la melatonina la melatonina la prendo solamente nei periodi molto stressanti tipo in questi ultimi due mesi che abbiamo perso due gatti in due mesi e prendo anche il triptofano che è un amminoacido precursore della serotonina che è un neurotrasmettitore quindi migliora l'umore migliora proprio la creazione di neurotrasmettitori insomma il triptofano per me la sera è fantastico e lo prendo quasi regolarmente e questa è la mia ultima integrazione non c'è spuntino post cena perché eravamo veramente distrutti io con questo ultimo refill di integrazione ho terminato spero di avervi dato ispirazione fatto compagnia aspetto di leggervi qui sotto e vi mando un super bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.